lecce stazione di lecce il treno frecciargento alta velocità 93 50 di trenitalia delle ore 5 e 50 per roma termini e in partenza dal binario 1 ferma a brisi bari centrale barletta foggia benevento caserta la prima classe in coda al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno frecciabianca 98 14 di trenitalia delle ore 5 6 e 03 per milano centrale e in partenza dal binario 2 ferma a brisi bari centrale barletta foggia termoli pescara centrale ancona pesaro primini bologna centrale modena reggio emilia parma piacenza carrozze dalla 1 alla 3 testa al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno intercity 604 di trenitalia delle ore 6 e 26 per bologna centrale e in partenza dal binario 3 ferma a brisi ostuni fasano monopoli bari centrale molfetta bisceglie trani barletta foggia termoli vasto san salvo pescara centrale giulianova san benedetto del tronto porto san giorgio fermo civita nova marche ancona senigallia fano pesaro riccione primini cesena forli faenza carrozza 7 in coda al treno il treno frecciabianca 98 16 di trenitalia delle ore 7 03 per venezia santa lucia e in partenza dal binario 4 ferma a brisi bari centrale barletta foggia termoli pescara centrale ancona pesaro primini bologna centrale ferrara rovigo padova venezia mestre carrozze dalla 1 alla 3 testa al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno regionale 12 5 6 7 di trenitalia delle ore 7 e 45 proveniente da vari centrale e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 12 5 9 0 di trenitalia il treno intercity not 7 8 9 di trenitalia delle ore 8 e 10 proveniente da roma termini e in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 12 5 9 0 di trenitalia delle ore 10 per bari centrale e in partenza dal binario 1 ferma a tre puzzi squinzano san pietro vernotico brindisi ostuni fasano monopoli poliniano amare bari pari 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 parco sud marconi il treno intercity 15 46 di trenitalia delle ore 10 e 0 5 per milano centrale e in partenza dal binario 4 ferma a brindisi ostuni fasano monopoli bari centrale molfetta bisceglie trani barletta foggia san severo termoli vasto san salvo pescara centrale giulianova san benedetto del tronto porto san giorgio fermo civita nova marche loreto ancona senegallia fano pesaro riccione primini cesena forli faenza bologna centrale modena reggio emilia parma fidenza piacenza lodi milano logoredo carrozze dalla 8 alla 6 in coda al treno dalla 5 alla 3 centro treno dalla 2 alla 1 testa treno il treno regionale 12 572 di trenitalia delle ore 10 e 40 per foggia e in partenza dal binario 3 ferma a tre puzzi squinzano san pietro vernotico brindisi caro vigno ostuni cisternino fasano monopoli polignano amare mola di bari bari torre a mare marconi bari centrale bari palese macchie bari santo spirito giovinazzo molfetta bisceglie trani barletta trinitapoli san ferdinando di puglia cerignola urtanova incornata il treno frecciabianca 98 24 di trenitalia delle ore 11 03 per torino portanuova e in partenza dal binario 2 ferma a brindisi bari centrale barletta foggia termoli pescara centrale ancona pesaro primini bologna centrale modena reggio emilia parma piacenza alessandria asti torino ringotto carrozze dalla 1 alla 3 in coda al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 testa treno il treno regionale 12 569 di trenitalia delle ore 11 30 proveniente da bari centrale e in arrivo al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno frecciargento alta velocità 93 54 di trenitalia delle ore 11 50 per roma termini e in partenza dal binario 1 ferma a brindisi bari centrale barletta foggia benevento caserta la prima classe è in testa al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione la prima classe è disponibile lo stessoWeb ilshire scopo ilshire il intensely